Buongiorno, oggi è mercoledì 9 gennaio, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Sarà una giornata all'insegna della nuvolosità, nuvolosità in aumento, non mancheranno precipitazioni soprattutto in provincia di Bolzano, temperature minime e massime in linea con gli ultimi giorni. In regia Massimo Moro andiamo con la nostra webcam a vedere qual è la situazione alle 6.30 di questa mattina sulla conca che ospita il centro abitato di Dobbiaco, vedete le nuvole già presenti a bassa quota. E rimanendo proprio a Dobbiaco una serie di immagini per raccontare quello che è accaduto ieri sera intorno alle 20, una serie di esplosioni, un incendio che ha devastato una struttura adibita al nolleggio di biciclette, al deposito di biciclette, tutto questo alle porte del centro abitato, l'origine dell'incendio da queste bombole del gas. Tanti i danni, fiamme altissime, notevole quantità di fumo, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Andiamo, andiamo sempre con l'aiuto della regia a vedere quali sono le previsioni meteo per la provincia di Bolzano innanzitutto. Abbiamo detto aumento della nuvolosità, aumento anche della probabilità di precipitazioni, identica situazione in provincia di Trento, forse qualche pioggia in meno, qualche nevicata in meno anche sulle montagne più alte e per la provincia di Trento temperature minime massime anche qui in linea con le ultime 24-48 ore. Andiamo sempre con l'aiuto di Massimo Moro a vedere quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, la stampa locale, il quotidiano Alto Adige, quota 100.000 in pensione e questa la stima annuale fatta dall'Inps per la provincia di Bolzano. All'interno una notizia degna di nota si chiama Bono, un cagnolino sopravvissuto 5 giorni a 3.000 metri di quota dopo essersi perso durante una gita di scialpinismo insieme ai suoi padroni e sopravvissuto a temperature anche di 20 gradi sotto lo zero. Oggi troviamo insieme al quotidiano Alto Adige il mensile, il segno, mensile della diocesi di Bolzano e Bressanone, la casa dei giovani, interessante approfondimento, tutto quello che c'è da sapere raccontato nel numero di questa settimana. Il Corriere dell'Alto Adige, la Lega, subito il cartello in italiano, la bufera politica dopo il caso del Renone, il carroccio avverte la stella alpina, bisogna abolire la legge del 2012. Andiamo in Trentino, purtroppo la cronaca nera, l'Adige uccisa alla fermata del bus, Rosanna Tamanini, 82 anni, travolta da un SUV inutile a ogni tentativo di salvare la donna che era stata a lungo vice sindaco del suo paese. E la tragedia di Villazzano è l'apertura anche del Trentino, travolta e uccisa, muore la donna di 82 anni, ex sindaco di Vigolo Vattaro. Torniamo in provincia di Bolzano con il quotidiano Dolomiten per la cronaca lingua tedesca, l'accordo di giunta tra Stella Alpina e Lega, che cosa dicono le opposizioni? Oggi è mercoledì troviamo l'inserto a carattere economico Viku, ci si occupa del bilancio, quali saranno le novità in tema soprattutto di prepensionamenti e tasse per coloro che operano sul web. Il quotidiano Tagest Zeitung dedica la sua apertura al tema del consumo di sostanze stupefacenti, la cannabis sempre più usata dalle donne, quali sono i rischi per la salute? Parla Michael Cia, lascia il calcio professionistico a 30 anni di età, quali saranno i nuovi progetti? Andiamo a livello nazionale, il Corriere della Sera, Carige, pronti 3 miliardi, Mattarella firma il decreto per il salvataggio, articoli fotocopia di quello per Monte dei Paschi di Siena. Il solo 24 ore, c'è forte preoccupazione in ambito europeo, produzione giù in Germania, rischio recessione, a novembre terzo calo consecutivo, nuovi segnali di frenata in Europa. È tutto, in chiusura vi ricordo come sempre gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano e non solo, combinata nordica in Val di Fiemme per la Coppa del Mondo dall'11 al 13 di gennaio, l'11 di gennaio hockey protagonista tra Bolzano e Clagenfurt, il 12 la 42esima edizione della ski marathon in Val Pusteria, sempre il 12 pallamano tra Bressanone e Cologne, il 15 di gennaio Coppa del Mondo a Plan di Corones, protagoniste le donne nello slalom gigante. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.